Da quello che abbiamo visto sono stati accontentati dei comuni che sono vicino il governo e nonché del nostro Presidente della Regione. Non sono stati accontentati tutti. Allora in Sicilia non si devono fare particolarità, ma bensì tutti siamo cittadini siciliani e tutti abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri. Perciò se i fondi devono essere ripartiti, devono essere ripartiti in ugual misura. Il mio sogno nel cassetto è quello di portare la Commissione parlamentare europea permanente antimafia in Europa. Perché prima c'è stata in una legislatura tanti anni fa che hanno formato la Commissione antimafia. Dopodiché sono andati via, non si è più riformata. Noi invece abbiamo bisogno di una Commissione parlamentare antimafia europea permanente in modo che chiunque vada in Europa deve occuparsi di questa problematica. Perché? Perché la mafia non è in Sicilia, non è al sud, non è solo in Italia, è in Europa e direi in forma ormai mondiale. E avere un faro per vedere i flussi di denaro sporchi oppure chi va ad investire, a comprare immobili, negozi all'estero per lavare il denaro, questa è una cosa che si deve assolutamente attenzionare.